Agricoltura in piazza a Salerno per la protesta ospitata in piazza Mendola sotto il palazzo della prefettura contro l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia da record che hanno messo in ginocchio alcuni settori importanti come orto, frutta e zootecnia. I compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono a coprire i costi di produzione con le imprese agricole spesso costrette a vendere sotto costo con gravi ripercussioni sui bilanci. Così è stato spiegato questa mattina da decine di allevatori e agricoltori della Coldiretti che hanno tenuto la protesta in piazza Mendola. Dobbiamo dare un'accelerata a tutti quelli che sono i provvedimenti che abbiamo immaginato e che abbiamo suggerito al governo ma che devono partire. Abbiamo visto che ci sono ingenti risorse nel PNRR, c'è un miliardo e mezzo a disposizione per la realizzazione di impianti fotovoltaici che potremo realizzare sulle nostre stalle e sulle nostre imprese agricole. Dall'altro lato c'è un miliardo e due messo a disposizione per i contratti di filiera, ci aspettiamo che partano presto per dare un respiro alle imprese agricole e non solo ma anche all'intera filiera che in questo momento sta soffrendo.